Questo bambino di sette anni ha fatto condannare la propria madre dopo aver raccontato al giudice gli orrori a cui ha dovuto assistere senza sapere che anche lei era in aula. Cos'è questo, proprio qui? Mia madre. E che cosa sta facendo? Uccide mia sorella. Hai fatto un disegno? Sì, signore. Cos'è questo qui? Il braccio di mia madre. Il braccio di tua madre. Sì, signore. Se ti dicessi che tua madre è qui in aula oggi, sarebbe la verità? No, signore. Non sarebbe la verità. Mi sai dire il perché? Forse perché lei non è in quest'aula. No, signore. E dov'è ora tua madre? In prigione. Quella donna, seduta in mezzo a loro due. L'hai mai vista prima? Sì, signore. E chi sarebbe? Mia madre. Riconosci tua madre? Sì, signore. Ehi, jay. Ehi, jay. Sì, signore. Dammi la mano. È tutto a posto. Tranquillo.